Ben trovati per questa edizione del PG Web di Basilicata.net. A seguito di un'intesa con la regione Basilicata, il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Basilicata sta concludendo uno studio meteo marino sulla costa ionica. E quanto è emerso nel corso di un incontro svoltosi in regione presieduto dall'assessore Santo Chirico, al quale hanno partecipato il Presidente della provincia di Matera Stella, i rappresentanti dell'autorità di bacino dei comuni della fascia ionica e degli operatori economici. L'obiettivo dell'incontro, ha spiegato Santo Chirico, è di istituire un tavolo di consultazione permanente. Nell'ambito del Festival al Femminile Premio Cecilia Salvia, organizzato dalla Presidenza della Giunta regionale e dall'Autorità dei diritti per le pari opportunità, Potenza ha ospitato la video installazione in ricordo di Cecilia Salvia, dell'artista contemporaneo Marco Nereo Rotelli, dal titolo Diventare Luce. Sentiamo l'intervista all'artista realizzata da Maria Antonietta Soldovieri. Nell'opera che abbiamo ammirato stasera, tre tentativi per fermare la luce. Che cosa significa? Qui io lavoro intorno a tre figure centrali del sapere della contemporaneità, tre figure metaforiche che avete visto svilupparsi durante l'installazione luminosa, sono la figura del giardino, inteso come carta del mondo e lì abbiamo visto questo universo di fiori diversi, fiori di Oriente e di Occidente, che si incrociano con le parole, con la poesia che è sempre cara nel mio lavoro. La seconda parte che è quella del fluttuare, abbiamo visto appunto queste fasi sull'acqua, la terza fase, che è quella dell'angelo, che è la fase della verticalità, quindi che all'interno di queste figure sta una possibilità di conoscenza della luce. La regione basilicata non può assistere in silenzio al ricatto della Fiat verso il governo nazionale per ottenere le agevolazioni per l'auto, che si traduce nella chiusura unilaterale degli stabilimenti, compreso quello di Melfi. E' quanto afferma il consigliere regionale di alleanza nazionale PDL Pasquale di Lorenzo. Come regione basilicata continua di Lorenzo non possiamo non condividere il coro unanime di condanna per un simile atteggiamento. Il giudizio della quarta commissione sul piano di dimensionamento scolastico non corrisponde alla portata del provvedimento adottato dalla giunta regionale. E' la replica dell'assessore Autilio che evidenzia che il piano è il risultato della concertazione con le province, l'Anci, l'ufficio scolastico regionale, i sindacati. Tale piano, sottolinea Autilio, ha accolto le indicazioni pervenute dalle giunte provinciali di Potenza e di Matera. Dal 1 febbraio nella sede della comunità montana della collina materana di Stigliano sarà attivo uno sportello del Dipartimento Agricoltura. Lo sportello sarà a disposizione dei tecnici e degli agricoltori ed offrirà consulenza per l'inoltro delle varie pratiche in orario ed ufficio nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì. L'andamento climatico e le principali criticità che hanno interessato le principali culture lucane nel 2009 sono state illustrate nel corso di un convegno organizzato dall'Alsia. I dettagli in questo servizio di Alessandro Sileo. La tuta absoluta è l'ultima specie di lepidottero che dallo scorso anno sta recando danni alle culture lucane. Le emergenze fitosanitarie sono esattamente quelle malattie delle fitopatologie che riguardano le nostre culture. Secondo quanto emerso dal consulto fitosanitario organizzato a potenza dall'Alsia, la normativa europea prevede dunque innovative attività sperimentali per sanare così lo stato di emergenza dei campi. Tutta la ricerca applicata, tutte le innovazioni, tutte le cure possibili vengono oggi qui trattate e poste come bagaglio di conoscenza a favore anche delle regioni con termini affinché questi saperi vengano completamente diffusi, vengono conosciuti dal mondo agricolo perché così insieme potremo trovare le migliori soluzioni per tutte le emergenze che sono emergenze legate anche al cambiamento delle condizioni climatiche e all'evoluzione dei parassiti. Grazie.